Dopo aver chiuso la regular season da imbattuti e inanellando record su record, l'Invicta Basket torna in campo domenica 5 marzo in gara 1 del play-off alle ore 18 al pala Cannizzaro contro il Sant'Agata. Si prevede una grande affluenza di pubblico per sostenere gli uomini del coach Giuseppe Spena, in questa prima gara di andata con il ritorno previsto per domenica 12 marzo. I cestisti nisseni conoscono molto bene il Sant'Agata, avendolo affrontato già due volte in campionato, ma il play-off e la tensione possono giocare brutti scherzi, ma l'Invicta scenderà in campo con il solo obiettivo di vincere. Basket, play-off gara 1, Sporting Adrano-Siracusa-Basket, Invicta-Sant'Agata, Zannella-Cefalù-Capobasket, Masca-Lucia-Sales-Catania. La Cusn, dopo la vittoria di sabato scorso a Gela, affronta al pala Cannizzaro la Salusport per la terza giornata del terzo turno. I cestisti nisseni vogliono approfittare della giornata di riposo della capolista Olimpia-Ragusa per agganciarli in testa alla classifica, ma la Salusport, terza forza del campionato, tenterà di giocarsela a viso aperto e di avvicinarsi alle due battistrada. Basket, promozione, girone D, terza giornata del terzo turno. Fenice-Priolo, nuova città di Gela. Cusn-Salusport, riposa Olimpia-Ragusa.